ci sono di nuovo non lo so a me dice come solito live ma non va e quindi non è vero non lo so bs c'è ci siamo? ok ah va bene ho il tuo problema opposto io connessione posso streamare tranquillamente la sera ma pomeriggio mi va di merda non lo so guarda non te lo so dire ste fibre fasulle no non vorrei che poi magari la gente che non ascolta bene è andata via perché lo so che c'è gente che sarà andata via sicuro intanto ah eccoci eccoci rainbow six comunque io vi ripeto e non solo per me ma per tutti su twitch fatevi amazon prime cioè se avete amazon prime andate a informarvi per sta cosa qua non costa niente di più costa 20 euro all'anno e avete amazon prime una una subscriba scelta su twitch e amazon video adesso quindi potete guardarvi una roba tipo netflix con tra l'altro contenuti esclusivi come mozart in the sembra una pubblicità però amazon paga mi va a fanculo sicuro mozart in the jungle e man in the high castle ma fa culo amazon si già mi paga in teoria però però tu la stai pagando 20 euro all'anno eh infatti almeno toglimi il prezzo amazon toglimi il prezzo annuale quei 20 euro all'anno almeno e poi in teoria c'è anche amazon music non è ancora arrivato con prime però c'è amazon music non esiste amazon music l'ho fatto con il primo stipendio pre eh 20 euro all'anno che saranno mai ripeterai trovio neanche i play pokemon ma stai visto stavo mandando un messaggio vocale vai invitatemi ci siete? basta ma come? vi invito? si si però l'ultima volta ho avuto problemi a invitare invito io aspetta che arrivo ormai ho invitato io vediamo se entra se non entra karim no sono entrato è entrato l'ora posto ma tu sei ancora il teschio nero che paura è differente adesso è un altro teschio nero inviti però infatti no il grand tour non l'ho visto eh aspetta non sei online io l'ho visto e mi abbar aspetta ragazzo non mi siete dei nemici ovvio che non non state tranquillo eh amazon video ragazzi la roba che c'è su amazon video ha vinto un sacco di premi tipo mozart in the jungle ha vinto un sacco di premi si ma non mi attira mai da guardare neanche a me attira però a me attira invece main in the high castle quello che è ambientato nella seconda guerra mondiale quello mi attira e non l'avevo mai visto perché vabbè in realtà lo stavamo aspettando noi cioè speravamo che venisse anche in Italia quello lì se ricordi sì sì no mi ricordo che abbiamo parlato sì 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 e niente non entrate da me perché moro fa schifo che ti hacker non ho capito è vero 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 adesso ero mutato cosa sta cominciando quel cretino ma ero il telefono ma solamente intro cosa devo fare hai invitato invito palpeggiandosi le mani quello lì c'è anche house of cards se non ricordo male assolutamente no assolutamente no molto male ricordalissimo mamma mia che male house of cards è di netflix e da noi c'è la sky fine lo fa ancora quel jingle sky quella lì quella lì eh no perché adesso è now tv on the web nessuno sta entrando ah eccola non era nella seconda guerra mondiale ah figo e negli anni 60 70 in un universo parallelo dove i nazisti hanno vinto la guerra ma che figo eh sì dopo la seconda guerra mondiale non lo sapevo io ho visto un trailer e sembrava no l'avevamo visto avevamo visto che l'america praticamente è divisa in due la parte germanica nazista e la parte giapponese va bene bravi tutti va bene però se entri riusciamo anche a fare io sono entrando perché avete sciolto il gruppo? perché vedi allora che ci hanno tutti i cazzi su sta cosa è sempre l'ultimo ok eh no no ma cagati in bocca no ah adesso lo fa adesso lo fai eh in culi ecco sessuale o cosa? i play pokemon go e replay e gli italiani come al solito ce la siamo pigliata nel cu? italiani di che? nella serie della seconda guerra mondiale boh avremmo vinto anche noi in teoria sì a meno che non ci ha pugnalato alle spalle Hitler quando ha vinto 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 uccidiamo tutti gli altri voglio stare da solo sì sì basta oggi non voglio cazzi non ho sbatta facciamo il tratto facciamo il tratto eeeh questo che è successo gabriel cosa ha scritto mi sono perso tra l'altro io sono il task manager aperto da prima su gta e sto vedendo che rimbus x siege mi ciuccia molta più roba di gta 5 ma gira 73 volte più fluido senza proprio botti giubbotti che magari fosse proprio quello e riesco a dire una solzata ma tutto 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 ma poi mi andava bene però dire ponda tenevo gta mi prende due giga di ram questo qui prende tre e mezzo e ma magari è per quello può essere 8gb domina cosa è dopo me volevo andare a mettere i pazzi volevo andare a mettere no l'ha trovato vabbè l'hanno trovato qua ecco qua che schifo lo squadra d'attacco silenziatore ma vabbè che qua non serve bravissima ola chi ce l'hai ecco il robottino ah il generatore che fa sto casino madonna tira e ponda tira e ponda intanto qualcuno ha messo delle trappole sì eccole qua perché sopra la trappola un po' si nasconde vedi più o meno non tantissimo qualcuno è senza giubbotto io ce l'ho bravi tutti bravi tutti no no ce l'hanno tutti siete stati bravissimi avete superato anche il testo qui c'è una donna nuda bellissima che non è nuda però se tirano le granate da là sono morto miss luglio 1988 ma i muri non ce n'è più da mettere vero? eh no ma qui non si possono mettere qui non si possono mettere qui non si possono mettere cazzo eh infatti mi sono andato via giusto in tempo la terra sotto com'è possibile eh li e zario lì non ti posso venire ad aiutare vecchio mio merda no quante quante che strage perfetto siamo rimasti io e te e li ezar che li ezar sta no li ezar a terra sotto eh rimane lì eh si possono rialzare così sono dischi apposta no vi sono apposta la stanza moro che stanno dimmiando presso di voi l'ho visto l'ho crivellato cazzo lo sapevo che sbucava da lì merda c'è anche un robottino l'ho arriva arriva lì io sparo all'ostaggio sicuro c'è stato dov'è hanno tirato la c4 mi sa eh vai bravi basta non andava dove cazzo vai torna indietro ma tu sei un coglione ma dove cazzo vai ma stai fermo ma lo stavo uccidendo guarda ma non è vero sei morto sei e certo che son morto dove vai dove merda è adesso quello la ma io dovevi stare dietro al coperto ma l'avevo ucciso l'avevo bravo carino che c4 non aveva vita bravo chiudi merda dietro lì è morto è morto di loro a metà vita è una contro uno eh stai dietro l'ostaggio curati bravo ancora ancora non so dov'è è lì è lì davanti lì davanti dove sinistra dove è morto gatto davanti davanti dove è morto gatto dove è morto gatto e in realtà è oltre il muro qui è lì è morto traviso traviso mamma mia che fatica ti ho visto visto la trappola è morto uno no l'ha matto lui quello che c'era rim ha matto l'altro su compagnia di squadra ah ma qui sono ma che cazzo di nick è? vabbè ma grazie per i soldi comunque io più di quello non so cosa dirti ok ma bannalo bannalo Gabriel bannalo che devo fare? non posso leggere questo ogni volta che leggo la chat che devo fare ma quindi sono tutte qui le menti migliori ma vedo che sei entrato nel gruppo giusto eh sì eh no eh no quel nome lì no porca troia non voglio leggerlo ogni volta porca troia se vuoi che non vi scegliete porca vacca ma c'è ma è un coglione quindi già che ha scelto quel nome deve essere proprio un genio della val brembana quindi di che cosa? specifico come genio eh adesso mi spieghi cos'hai contro la val brembana è pieno di geni appunto e quindi fa le coglionate perchè sono dei geni dove sono? sono sotto sotto non trovo una minchia o nell'altro edificio l'ho trovato l'ho trovato ma dove sei? l'ho trovato l'ho trovato l'ho trovato l'ho trovato nell'altro gioco eh stai fermo stagio stai fermo no non deve stare fermo così ah ecco bello sono qua sotto niente sono un fottuto mi sa che sono anche un po' nascosto la porca trova avanti il catentino chi sono? il fuse ok il garage mi da un po' pastiglia parte che in noi non vedo un cazzo eh occhi ogni fiud hai guardato occhio a chi? e ti uccidi l'ostaggio hai ragione ho fatto una cazzata esatto no 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 No, in realtà devi sempre buttarle dove non c'è lo stagio. Vabbè, hai comunque le tre cariche, quindi... Eh, le butti dove non c'è lo stagio, gatto. Sì, buttalo dove non... Buttalo qui, gatto. Gatto, qua. E cos'è? Cosa? È via, Zaro? Cosa? Eh, non lo so, io stavo camminando, tranquillo. Gatto, metti la carica qui. Ma guarda che è qui a venti metri. Eh, ma venti metri sotto. Mi fido di te. No, aspetta, 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 anzi, anzi. Ma lì è sopra, comunque. Sì, è infatti, è infatti, sì. Le. Occhio muro. Allora. Via tutti. Anche se non uccidi nessuno va bene. Mi ha dato hit marker, ma non so da che. Gatto, la laser come è morto. Andiamo su. Ma è sotto, che andiamo su, è sotto. Di qua, gatto, di qua. Di qua, gatto, di qua. Di qua. Fermo, fermo, fermo. Vabbè, c'è Espert, c'è Espert. Via, via, di lì, via, di lì. Ah, è vero, pensavo fosse fuori. Pensavo fosse fuori, non l'ho visto, dove era. Porca troia. Madonna, come m'ho ucciso, questo? È che be' era, quindi? No, è Pulse. Ah, è Pulse, porca troia. Eh, vuol dire che è bravo da usarlo. La vi spara dalle finestre, in modo vi spara, quindi al piano piano. Ma no, io ero dentro, ero. Faccio una capatina sotto, è infatti. Cazzo, ma non è possibile. Ma no, guarda con quanta vita. Puttana. Ci sono anche arrivato perché ho detto Vuoi vedere che ce n'è uno sotto che ci prende da dietro? Mi ha colpito una volta e mi ha fatto il 100% di danni. Pensa che sfiga. Ucciso? Bravo, Espert. Vai. Ti ha preso dritto in testa. Ti arriverai indietro sicuro. Non ci credo. Sono io dietro di lui. Sono io dietro di lui. Controlla le spalle, gatto, anche io. Eh sì, controlla le spalle, però tu non ti girare. Eh, lo sento dietro comunque io, eh. Uno è al piano a terra, eh. Eh sì. Per cui ti controlla dietro il gatto, anche. Ok, ho sentito camminare. Ha sparato un colpo in testa e mi ha ucciso. Ma mira in alto. Ucciso. Buona. Ok, era quello che c'è stato dietro a lei, che mi muro. Sì, era Pulse. Sono ancora sopra comunque, anche. Sono qua dietro a loro, gatto, quindi. Aspetta. Lo facciamo? Aspetta. Hai ganate? Hai ganate? Sì, sì, sì. No, aspetta, c'è l'ostaggio lì. Sì, no, l'ostaggio è lontano. Ma l'ostaggio è di là. Ah, ok. Cosa mi riliei, eh? C'era un buchetto, pensavo ci facevo qualcuno. Posso mettere qua? Eh, no, il buco... No, mi è rinforzato. Sì, sì, sì. Io non vedo niente qua. Ma un po', può andare. Ne butto un'altra prima. E uno mi sa sopra comunque. Anche secondo me, però... È lì sulla... È scritto, mira la scala, forse è lì, eh? Sulla scala. Eh, non lo so. No, no, mi sa di no. No, no, mi sa di no. Pazzo! Eh, qua dentro comunque uno, su me, qua. Eh... L'ho visto, merda. Aspetta, aspetta. Ho visto? Oh... O sono matto o ho visto qualcosa? Sei matto? No, vai nella stanza lì. Non corre, non corre che ti sg... È lì! Vaffanculo, Moro! Dov'era, dov'era? Vaffanculo! Dov'era, di sopra? Sì, era sopra tutto ripiastato. Ma non correre però, che ti sento. Me l'ha detto quel coglione, io mi son fidato. Vaffanculo, Moro. E dov'è quindi? Ma devi andare a prendere l'ostaggio. Te devi prendere l'ostaggio e 10 secondi. Eh, non ce la fai più. Quanto qua? Eh, porca puccava. Bene, dai. E chi dovrebbe accettirla, guarda? Era sopra uno, eh, Sfritt. Eh sì. E l'avevo visto. E tu, no, non è vero. Motonna. Invece. E l'arma che vola? L'avete visto solo io? Non ha volato. Non ha volato. Dov'è? Dov'è andare a prendere lo stagio di due. E poi aspettare l'altro, piuttosto. Non dividerci. È un po' di merda, guarda. Eh. Dai, mi diverso usare il... Il dock. Eh, Rook. Prendo Rook. Sempre. Adesso ho anche l'arghicchiato mentre giocavo, porca vacca. Ah, il collone non ero io, eri tu che scatto. No, ma non è che non ho il ping alto. Questo mi ha fastidio, che mi lagga la connessione ma non ho il ping alto. Che non vuol dire niente. Scatto. Eh. Perché non è stabile. Non ho preso niente. Ma sei un deficiente. Ma perché? Ma perché? Perché tabba, 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 eh allora cos'hai fatto, che lo siamo lasciati, coglione, questo è un deficiente, questo qui, ma non vi preoccupate che quando io uso la recluta è facile, ma Karim me lo stavo mettendo, pezzo di merda, mi spiace. Giubbotti, giubbotti. Adesso, no. Robottino, ahia, che dolore. Ahia, c'è un robottino, quello, eh, non la porta dai. No, non è il robottino, è il volo che spara cazzo. No, è là. No, c'è il robottino, quello. Dammene uno, Stefano, dammene uno di biscotto di Natale. Ma che buoni. Gnammi. Ma che medico, sì, c'è il medico. Ma quanto tu ti ho? Karim, mi dai una pompata? Ma di già? Quanto evitai? Eh, mi ha sparato Moro, 81. Ma stai tranquillo, non è che ti salvano 10 in più, eh? 20, però va bene. Ah, vedi, 19 ti è. Eh, ecco te, sì. Ponto tondo, 60. Hai play Pokemon. Ponto Moro io ho una parietà, metto qua. Poi non è coperto il tuo gatto occhio. Ma che cucina italiana, cioè, è qui. Scavolini. Mi sa che sono qui. Hanno rotto? Abbiamo perso. Sopra, sopra hanno rotto. E infatti. Di qua, di qua, di qua, di qua. Sono morto. Che pirla, però. No, 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 Moro. Dovevo visto. Che cazzo mi passi davanti? Ma sei scemo? Eh, ma dopo mezz'ora ho fatto. Un colpo, mi ha ucciso con un colpo. Perché avevo tanta di vita. Ho pure colpito, c'è anche il cecchino, però. Ho ucciso. Ok, stiamo lì, che c'è il cecchino di fronte. Chi è, chi è? È qui. Lo vedi? Eh, devo scappare. Eh, non so cosa fare. Moro, hai bisogno di cura? Sai che mi individua? No, non mi ha mai preso a me. È passato, eh, occhio. Sì, sì. Schioppano. Ma sto robocchino? Dov'era? Era sopra i fornelli. Eccolo. L'ho preso. Motocari, il 2, mi ha sperato. Hai visto? Demoz, grazie mille. Porcelli? Una domanda? Questo è un deficiente, quello qui. Non potete notare che sto morendo per colpa di Moro. Gli vado addosso? Che cosa vuoi adesso? Eh, Sprit. Eh, ma ti sei morto perché sei un pirla ci sei andato di fronte in faccia così correndo. Non c'è più nessuno, non c'è più nessuno. Non c'è più nessuno. Non mi fermo mai, gatto, è tutto registrato. Cazzo. No, Liezzar. Non c'è più nessuno, occhio, eh. Bravissimo, bravissimo. Ma fa un cu. Tiè. Ah, lì, lì. Puttana sopra. Non devi andare a ridere, comunque. Ma è lì ancora? Stai a cam... È ancora lì fuori, carino, quello con lo scudo, eh. Sto sparando sempre a porta di prima. No, scusa. Scusa, ancora. Ah, ecco. È a terra, aspetta che lo vado a accedere. Seri quasi, è Sprit. No, ma è impossibile che arrivi dal vetro, lì. Come faccio? È dietro, sopra. Aspetta, aspetta. Ti riusciti, 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 riusciti. Esprit a destra. Dove vai, dove va? Dov'era? Cosa ho fatto? Mi son curato per errore. Ma, ma ex non fa più parte della partita per aver ucciso dei compagni. Ha giù lo stagio, mi sa. Ah, è tornato il, quello che si chiamava, e tra l'altro con la subscribe di nuovo di Amazon si può, ed è stato ribannato. Beh, è stato bello. Eh, se si fa un account gratuito non so se gli danno il Prime. Sì, sì, sì. Glielo danno? Sì. Ah, quindi a posto, grazie per i doppi soldi. Beh, ma uno si fa soldi infiniti così, scusa. Beh, non credo, se hai la voglia. Eh, uno continua a crearsi account di Amazon, si fa il mese gratuito, si dà... Sì, ma quanti ne puoi fare? Ma va bene. Moro, Moro, Moro. Ma tu sei un deficiente, ma questo è un deficiente, ma dai. Ma tu sei un deficiente. Va bene, allora giochiamo. Ma che c'è la legge, la prima cancella faccia. Ma poi cosa vuol dire? Hai due schermi ma non riesci a selezionarlo mentre leggi, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Eh, no, ma sto leggendo. E che si, c'è, vuol dire, eh. Cosa vuol dire? Sì, penso a Rainbow Six. Ah, sono sopra? Che poi hai visto, che cuglio ho fatto con la recluta, quindi... Arrivo. Ah, sì, sì, sono una stanza grande. Ah, Moro, guarda. Sentri di essere. Ma stai zitto, che ho giocato benissimo. Non è vero. Ma come non è vero? A me piace il te caldo, Biff. Chi è che è morto? Lo adoro. Nella vita, così, o...? Moro il te caldo, scusate. Ancora dieci secondi. Ma stai nascosto, stai nascosto, eh, street. Sì, sì, no, è stato con l'ostaggio, sto qua. Di più, di più con l'ostaggio, di più con l'ostaggio. I vecchi, i vecchi, i vecchi, i vecchi, i vecchi! Ah! Cuglione! Io sono ancora dentro tutto nascosto, perché c'ho la recluta, eh, comunque. Sì, vabbè. Che lag! Sì, ma lag è un casino il server oggi. Sì, eh? Continuo. Perché prima sono tornato indietro nel tempo io. Freezer. Perché già è una merda, seppure lag. Guardi la luce di finestra. Da soprissima gli passo. Prima che sinistra. Qualcuno mi fa un breve riassunto di quello che è successo in chat. Ma fatti i cazzi tuoi, guarda la live. Ma che cazzo vuol dire? Ho ucciso uno, sono un cecchino. Gatto, puppa mi la fava. Che te frega. Eeeh, adesso. Puppa mi la fava, gatto. Ho ucciso uno per puro culo. C'è del fumo, cosa che bello qua. Come mai? Puro culo le palle, gatto. Che colore è il fumo? Blu. Eta! C'è chi l'ha messo. Questo è un congno. Dove sei morto? Dove c'era il mio fumo? Oh, dove sono entrata, sì, dove c'è il fumo. Ah, ma visto proprio. Ok, ti ho vendicato. Eri di fianco a me, praticamente. Jezar, io ho visto una cosa paranormale. Dopo te lo dico. Dopo te lo dico. Paranormale. È paura il fuoco. Sono io il fuoco. Tu sei un coglione. Staci. Fili d'occhio. Se porre che c'è qualcuno qua. Da controllare. Io voglio entrare... Qui. Che paura! Ho sbagliato tutto. C'è la trappola qua. Trappola, aspetta, Citar. Ho potuto scommettarne uno, magari. Scusate, mi sono spaventato. Sono scemo perché appena vedo un'ombra... Cioè, qualcosa di buio. Devo sparargli subito. Che mi... C'è che è sopra, comunque. Io. Non c'è nessuno nella stanza dello stagio. Non sbuca poi nessuno dietro all'inizio. Eh, no, io non ne sento, ma... Ah, dietro, dietro. Dietro? Non lo so, non ho capito. Bravo. Da dove? Buono, bravo. Guarda dietro. Guarda dietro. No, praticamente, Eliezer. Guarda dietro la porta. Una donazione... Oh, sono primo. Tra l'altro. Ho il tabatto, ho fatto una cazzata. Ok. Merda. Grazie, Serquaglio. Grazie mille. Serquaglio. Ridicela. Perché lui quaglia un sacco. E dopo lo signore. Serquaglio. Cos'ho detto? Hai detto Serquaglio? Eh, Maria, cos'ho detto? Mi fa ridere. Hai detto Serquaglio, hai detto? Ho Amazon Prime da un anno e ho scoperto solo oggi l'esistenza di Twitch Prime. Ma è c'è da qualche mese. Da due mesi. Da tre mesi. Ma da ottobre, è vero? Da ottobre. Niente, è da tre anni che c'è comunque. Da agosto che si lamenta quello qui che non gli fa regali. Ma ancora. Ma comunque non so se c'è ancora appunto. Cominciamo prima, il fatto di fare l'account gratuito su Amazon. Cioè, di fare l'account e avere Amazon Prime gratuito. Devi comunque mettere una carta. Eh, devi mettere una carta. Eh, ma se non paghi tanto. Eh, devi mettere una carta diversa da un'altra, però. Credo. Ah, di ogni modo diversa? Cosa c'è qui? Non so se puoi togliere la donazione. Non so se puoi togliere la donazione. Perché io l'ho fatto poi. Moro. Prendi il coso. Scegliendo. Però non volevo, mi hai messo fretta. Dai sì, va bene. Ho preso malissimo. Prendi i culi adesso. E comunque, io, con la recluta, ho spaccato i culi due volte. Ma va bene. Questo vuol dire che sei un incapace. Tu sei una merda di uomo. Mamma mia, ma è sempre esagerata questa affermazione, ma va bene. Con che tono poi? Scusami. Mi è andata di culo una volta. Non ho pranzato, me lo so ricordato adesso. Puoi chiudere la live, carino? Non hai pranzato? Sono le tre e mezza. Eh, ma c'ho fame adesso. No, ho mangiato una focaccella prima perché non avevo voglia di cucinare. Perché sono solo a casa. Ma hai mangiato una coglione. Sono solo a casa, dovevo cucinare. In otto mesi, comunque. Guarda che no, perché la focaccella è aria. Piezza, lo stai formattando. Aria è molto morbida. No, è che lo tappate per questo. Ma perché tabbi? Non tappare, vai. Sfittà, però? Non tappare. Tabbo. Dabbo. Va bene. Non c'è nulla più da stile. Andate a vedere le journey gamer di via. www.journeygamer.togni Punto di gatto. Ma che fanno è sta mappa. Dove c'è te posso andare qua, quelli qua? Gli ho sentiti. Già che sono top, Brian. Registreremo una portata, una puntata di Crash Royale. Una portata, ha detto portata, ha detto portata. Sei contento? Tu fai così sempre, gatto. Tu fai così sempre. Sei contento? Ti è piaciuta questa riempio? Io non mi sono messo a urlarti dietro. Perché a me dà fastidio e tu continui a farlo. Pezzettino di stronzo. Adesso che ti dà fastidio, cerco di non farlo. Tu e Moro pure. E infatti sto cercando di non farlo. La focaccia è un insulto per la Liguria. Non è che lo faccio con cattiveria, lo faccio con goliardia. Lo fai perché sei scemo. E che devi infilarmi. Ma come? Mi è in narida. Ma io li sai tu. Di Lino Banfi. Ne ho visti di film di Lino Banfi, penso di saperne abbastanza. Poi dopo... Ognuno sa quel che può. Ma sì, dai, sacco su con gli hater. Dov'è? Io spacco delle gamere. Ognuno sa quel che può. Proprio la frezza di quelli che non sanno fare. Vieni qui che ti spacco la faccia. Dai, sparami. Voglio proprio vedere. Sparami. Metti la fuzzata che io li annaspo. Bravo, bravo. Lo ho rotto tutto perché sono il più forte. Guarda adesso cosa faccio, la combo. Non vedo, aspetta che vibra. Beh, aspetta che vibra. Ma come? Mi sembra un greco. Ma tu sei un deficiente! Ma tu sei un cretino di merda sei! Tu sei un mentecatto sei! Guarda che riga che cosa è successo lì! Non vedo niente. Ma che vuoi? Ma che vuoi? Moro? L'ho ucciso. Mi hanno tirato una C4. Che ho visto? Però stai tranquillo. È avuto paurissimo perché sono entrato dentro rapidissimo e l'ho trovato subito uno davanti. Mister Jeffrey mi ha ucciso. Era sopra, era. Cosa, cosa? Come no, dove è? Aiuto! Ma sei un coglione, gatto! Mi hanno sparato. Eh, ma dopo sei ore ti sei accorto? Eh no, è che stavo mirando e stavo sparando. Ma allora stai tranquillo. Medico ce n'è? Sì, medico ce n'è. Ma medico in attacco dove? Fatti sparare nel piede. Sparati nel piede. Aspetta, gatto, non entrare, non entrare, gatto. Non entrare qua che entri. Ma cazzo esploro. Dimmi. Parano il piede al gatto e tiralo su. Ah. No, no. Ma non mi attacco. Non posso farlo? Sì, che ti tiro. Ti tiro su tutta la vita. Ma stai fermo, stai fermo. Stai fermo, stai fermo. Ah, che dolore, che dolore. Ma dai, mi ha tolto punti, mi ha tolto. Grazie. Vai, entriamo di lì, entriamo di lì. Traffi, sono 5 di vita. Merda. Entriamo di lì dove sei te? Eh, dietro. Non era lì, non era. Spara lì subito. Stai, io non tosi vuole sparare. Gli ho sparato. Mi dicono molto praticamente. Quanto mi dai, esprim. Ma che male, da dove? Era lì. L'hai colpito? Eh sì, è stato lì. Guarda che comunque, c'è qualcosa che non mi torna in questo gioco. Io gli ho sparato nei coglioni, sono sicuro, perché ho riso. No, io ho un sacco però. Ma non gli ho tolto niente di vita. E dalla sua kill cam, soprattutto, ho sparato all'aria. Ma guarda! Cos'è successo? Non si capiva più un cazzo. Ah! C'erano dei ragni. C'erano degli... Bloodborne, ogni volta è Bloodborne. Pue, 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 pue. Metto lo Jäger. No, aspetta, lo Jäger non serveva una scena. Sto considerando di mettere il cazzo di un mirino. Dammi il cazzo. Sì, anche tu avevi un mirino della merda. Se volete regalarmi giochi su Steam, chiedetegli una mail. Da agosto. Da agosto. E io, Toby Karim, chioccio la... Non è quella, non è quella, tra l'altro, quella di Steam. Non è quella. E non lo so qual è quella, qual è quella di Steam. E non tra di... E non tra di... Ma non è io, Toby Karim, non è che tu sei io, Toby Karim, sono. La so, semplicemente non ho testa di andarmela a cercare, ma la so. Ma stronzo? Come quella volta che ti regalai qualche cosa. Ma il robottino di merda c'è! Mi ha pittirato il culo, dov'è? E mi ha pittirato il culo cosa vuol dire, però? E dov'è il coglione di un robottino? Puttana? Eccolo il robottello. Cosa cazzo è? Vabbè, me ne sbaglio. Quale ho trovato? La? Serve, Gastani! Prinza? Serve. Eh no, ero in live, non ho visto... Non ha fatto niente, Dragon. Eh, aspetto che parta. Dragon, Dragon, Dragon. Conviene tenerla aperta questa, sai? Che di qua si sbuca, si sbuca. Si sguscia. La metti faccia di cazzo? Ma guarda te! I giubbotti? Sono. Ah, non ci sono. Non ci sono, non ci sono. Io qua sono da solo, però, eh. Qua però mancano due paeti, in realtà. So la via, quello stesso. Dove sono che mancano? Qua da me, anche, eh. Perché è tutto aperto, qui. Guarda te, se devo salire sopra il tavolo per appoggiarci sopra una roba. Ma cosa serve da gatto, poi? Come cosa serve? Senta una granata. Catrona! È tipo quella! La di te. Hai visto, eh, Spirit? Siamo morti. No, mi sono nascosto io. Ma qua dietro è tutto scoperto, però. Cazzo, mi ha preso il robottino, mi ha preso, vaffanculo. Ha fatto un rumore bruttissimo. Infatti mi sono spaventato più per il... L'ho rotto. Via, Spirit, via, Spirit, via, Spirit. E niente, adesso mi sgamano. Ma cosa spaventano di proiettile? Ma che siamo qua? Eh, c'è, l'ho beccato uno beccato, eh. Ma dai, ma l'ho preso, morici! Non muore. Ma quest'arma qui non fa un cazzo, come atta. Ah, io sì, ciao. Grazie, Eldar. Minchia, come mi ha tirato giù svelto. Eh, ma qua, anzi, state morendo tutti. Ma mi ha preso di striscio, mi ha preso. Ti ha ucciso un Fuzz? Mi ha scioltato, non l'ho visto io. Io non l'ho visto. Occhio, moro. E infatti, anche a me. Ma da me non si vedeva, non è vero che si vedeva così tanto. E infatti, vedi. Ma mi ha preso una gamba, poi. Un culo. Un culo. Ha fatto una mini raffica che ci ha scioltati entrambi. Hanno spaccato una fu... Sono io. Porca puttana. Alla buona bia. Non avvisa mai, non avvisa mai. Eccoli, li vedo, li vedo. Lì, inca. Taggali, taggali. Dove li sto taggando? Stanno scivolando dentro in due. E non li posso più taggare. Levate, levati. Ma che paura. L'ho colpito. Cazzo, moro che passi davanti ogni due secondi, passi. Ho capito. Vaffanculo. Li avete uccisi entrambi, taggali. Ah, dietro, Karim, sono entrati dietro. Slejjammers. E' stato entrando anche qui. Preso. I granate, i granate. Eh, boh, fortuna c'era il coso di... Eh, mamma mia, Liezer. Madonna, me la ce l'ho aperto da uno di vita. Liezer, via, che ti curo. Eh, a posto, a posto, a posto. A posto. Mi è ucciso. C'è un altro, no? C'è un altro di moro. No, come c'è un altro? Sì, c'è un altro sinistro. Hanno tirato il capitão. Ah, sinistra. No, non è quello che ci so dietro, mi sa. No, non l'ho visto, non l'hai visto? No, non l'ho visto. Ma mi ha visto lui? Ma lui mi ha visto? Come cazzo ha visto? Come fai da non vederlo? No, ci parliamo troppo sopra mentre giocano gli altri. Sei stato distratto da noi, Karim. No, 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 non l'ho visto. Cioè, non so come mi abbia visto lui, perché io, dalla mia visuale, non potevo. C'era il muro. C'era tutto il muro. Stavi parlando e non l'hai sentito. No, ma era chinato, non l'avrei sentito comunque. Però è strano, perché lui era di spalle e mi si è girato e mi ha ucciso. Però non poteva vedermi. Regatto, quello che ha deciso a me, io dal mio visuale non lo vedevo. Dalla sua, era fuori sulla finestra. Quindi io ho allagato il server, perché non questo è il network questo. No, ma infatti anche prima ti dicevo, ho sparato a uno sulle balle, è uscito il sangue, dalla sua killcam io stavo sparando da un'altra parte. Ma proprio da un'altra parte, non l'ho mai preso. E non so se sia l'ag del server, se siamo noi, se... No, perché netcode è troppo essere netcode, perché non è così tanto. Ma si è marocchinato. Anche perché ero sicuro... Ero sicuro al 100% di averlo preso. Anche perché l'ho visto, quindi. Ah, li ho sempre trovati, porca vacca. Grazie, carino. Piccolo pulcino. Morto. Adesso sì, l'ho messo sotto. Ah, stanno barricando le finestre. Ovviamente. State attenti che c'è il Kafkian, che mette le bombe. Domanda, a parte Termite, c'è qualcuno che può rompere le finestre barricate? Io, e quello con il missile? Ibana Spagna. Io sono Ibana. Guarda che quelli sleggia, anche le possono rompere tutti, semplicemente non le puoi rompere a... corpo a corpo. Ma se lo puoi fare, una vita, ci metti, me lo puoi fare. Sì. Le puoi romper me se fatti 10 suoni. Che facciamo? Che facciamo? Qui, gatto, puoi... Fare che? Occhio, gatto. Fai passare la finestra. C'è dentro me. Guarda le me dentro. Gliezza, sei una persona intelligente. Ho tutte le camere, non le rompe mai nessuno. Io ti sparo, carino. Scusami, Moro. Ero concentrato su dove metterle... Occhio, Gator. Occhio, Moro, che qua... Io posso rompere come mi pare. Che cos'è questa cosa? Cosa ho visto? Ma per una roba di legno, ma sei scemo? Eh... No, stavo indicando. Ma va a cagare. Stavo indicando, ma va a fanculo. Ho detto gli sparo? Eh, no. Allora, allora. Stiamo andando, però. Eh, apri, apri, non ti pare che l'uso. Eh, neanche io vedo. Ma togli quell'arma! È che non si vede molto. Gator, fammi fare una cosa. Coprimi un attimo. Buca, però, angolati. Moro indietro, indietro, indietro. Dove mi metto? Moro più indietro, moro più indietro. Eh, spero. Angoliamoci. In quale, in quale... Ah, sì, è quello più vicino a noi. È deficiente. Via di lì. Puttana vacca. Ci passiamo sotto lì. Sto beccato, me lo ho dietro. Ma no, è per sparare. Strisciando, strisciando, ci passiamo comunque. Posso passare io. Ok. Aspetta, provo ad andare dall'alto io. Nessuno, vedete nessuno? No. C'è anche un pezzo di muro, purtroppo. Un pezzo di mobile. Aspetta. Fammi passare che guardo... Aspetta, scendo dall'alto. E ci fanno di... Ah, no. Non posso passare. Mi stai scoppiando. Quello lì! Eh! Cazzo, gatto, non l'hai ucciso? L'ho dovuto uccidere io! No, io vedo i piedi sotto il coso. Non vedevo la pesa. Paura. Vabbè, Moro, levati che la sto puntato apro. Non si può passare, Moro. Via di lì! Eccolo! Io! Karim, lo vedi tu? No, non lo vedo. Ma non serviva lì sopra, non serviva lì sopra. Sì, che almeno entriamo. Entriamo. Entriamo lì, porca vacca. Ma sto robottino, porca troia, dove cacchio era? Aspetta, Karim. Eh, lì è la bomba B, lì. Lì è la bomba B. Abbiamo aperto la finestra lì. Ah, merda, devi stare là. Bene, bene, bene. Parca vacca. Ho fatto tutto giro, ha fatto. Non posso usare le robottine, però non lo voglio dare. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta che... Sto sentendo rumori. Parla sopra. Ho perso dei tuoi legni sotto la testa. No, no, no. Eccola lì! Infatti, porca troia. Puttana, tirami su... Buona. Vieni da me, vieni da me. Non è morta, poi Karim, porca vacca. Adesso appare, non è morta. Non è morta. Ma guarda che è caduta, è caduta, eh. Hai caduta? Eh, sì. Hai preso in testa, Karim, doveva anche morire. Ah, l'ho presa io? Non è vero, eh. Sì, da me l'hai presa. Vuoi uscire. No, no, no. È davanti, nella porta davanti. Preso. Madonna, Karim. Sono io, Karim. Il segnescatore è di nuovo nostro. Ezzer, questo ci fa fuori tutti. Trappa, 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 Karim. L'ho visto, l'ho visto. Ho mancato. È una e l'altra bomba, eh. Quindi occhio. È nell'altra? Mettete il segnescatore? No, no, aspetta. Ah, ma sono scemo. Il problema è che dobbiamo stare qui, Ezzer. No, non serve, basta che... Eh no, perché se lo disinnesca... È attivo. Stai attento alla bomba lì, Ezzer. L'ho visto. No, lì c'ha messo Jeffery, quindi l'altro non so dove sia. Buona. Eccolo. Volevo mettergli la bomba. Buona, buona, comunque. Madonna. Mamma mia, che paura. Quanto fastidio dà il... Il robottino del tipo. Porca vacca. Dai, sono molto per quello, io, niente. Perché mi ha stordito, non ho visto altro. Eh sì, ho visto, anche me ha stordito. Sono inciampato. Se... Palle. Gemmer. Poi lo prendiamo con Gemmer. Dai che è quasi Natale. Io poi domani parto, e sto via il 24, il 25, il 26, poi il 27, il 28, il 29, il 30, facciamo un po' di live, e poi fino al 7 gennaio niente. In realtà... Io mi do un po' di due, eh? Eh, fino al 7, sì. Sono tutti in vacanza, direi di lasciare una settimana. Giubbini! Vabbè, anche tra il 27 e il 30 sono tutti in vacanza. Eh... Però è capodanno e capodanno, quindi... Va bene. Ok. No? Mi sembra più logico, non lo so, ho sempre fatto così. No, no, ho sempre fatto... Non è sbagliato. Capodanno e capodanno mi è piaciuto. Vabbè, ragazzi, adesso ti sparano nei coglioni, vediamo un po'. E robottini. Porca troia, sono morto per colpa vostra, devi morire tu. Ma se sei morto per colpa nostra? Parlate, parlate. Eh, parlate, eh? Trova le scuse, questa. Porca miseria, vi ho detto di stare zitti. Eh, ma era lì davanti, era. Sparali. Appunto, taci. Sparali, muori, sto zicco. Mi spari, muore, non è che... Ah, c'è mai. È una sola, però basta. No. Io devo stare con voi, ragazzi. Non, 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 non moro. Grazie. Poi non sto più qua, è una stanza, fankura, cacchio di mer. Caco, cacchio, io moro. Va bene, bravo. Bravo. Mettiamo, apparete qua, Karim, così. C'era bisogno di star lì? Ma farlo prima, magari? Cosa c'hai, cosa c'hai? Quanti cavoli tuoi? Adesso muore, guarda Scusi Là Vai via, vai via Vai via Ah, ma qui non c'è la bomba Ti sporo in testa, eh Hanno avuto qua la bomba Ero io, ero io Non lo dice mai, non lo dico Non lo dicono mai Ma vai a cagare, vai Ma facci tu col tappo in cu Ah, va bene Scusate, ma chi è Frost? Nessuno Nessuno Oh, ho preso un robottino Non mi passate davanti però Che se li vedo i piedi mi sparo Eh, io devo guardare Eh, granate, granate, granate Che colore Cazzo, ti potevo salvare ma non ce l'ho fatta Ho preso uno, ho preso L'ho granata, l'ho volata qui Cazzo, ho visto un pezzo nero volare Non ho capito la mia killcam Perché ero in un'altra stanza Un pallino è rimbalzato Ed è arrivato tutto solo a me Ma puttana, che ho fatto a dirmi Eh, Sprit, eh Sprit Fermo, fermo, fermo Eh, Sprit Guarda, è Sprit destra Quanto sta? Eh, guarda puttana Destra, guarda dietro Merda Mmm, Karimbo Ottimo lì Ma è che adesso c'è qualcuno a sinistra Io te lo dico Cazzo A sinistra, sì, c'è uno Sta arrivando, Karim, eh? Ah no, è andato da un'altra parte L'ho fatto cadere Taggo, taggo Tagga, tagga, mamma Tagga, tagga Non lì, non lì Aspetta, Karim Come non lì? Era lì Cosa non lì? Stai zitto Eccolo Eh, bravissimo Non era lì quando hai sparato Dai, mancano due E sopra? 113 di vita Non lo credo Eccolo E la cura Bravo Ne hai incisi due? Perché l'altro era per terra Ah Guarda che headshot Ma è che non ho ucciso Le tacche di Blackbird Porca Cacca Sono spaventato un sacco Tutti hanno sull'arm il Fuse, eh? Stronzo Ah, perché tutti lo vogliono Ecco, devo usare Tutti lo vogliono? Eh L'attacca anima lo vuole usare Perché così fa i punti facili E arriva primo Così non fa la figura di cacca Sono arrivato primo anche adesso Che eravamo in difesa Guarda un po' Da solo Da solo Con tu che mi hai detto Non lì, non lì E invece mi ha ucciso due Ma non era lì, non era Era lì, l'ho ucciso Mentre mai dicevi non lì Mi stavo sparando Sai dov'era la mia telecamera? Era dalla parte opposta a te Che vedevo sia te che lui Ma allora stai zitto Allora stai zì Ma tu hai zitto allora Ma non ho capito Sbagli Ti dico non lì Ma non è come Ne ho ucciso uno, gatto Cosa vuol dire non era lì? Ne ho ucciso uno Mi dici non lì? Io cosa dovevo non sa E zì ma ti è tre ore che te lo dico Quando mi hai detto non lì Ne ho ucciso uno Anzi due E poi è arrivato l'altro E l'altro è quello che vedevo io Quello che è arrivato E allora sei insoncetto però Va bene Ti voglio bene E che Clash Royale dopo Dai Ma volendo uno può fare Un video in co-op Cioè in due Di Clash Royale Uno contro uno Uno contro uno Il Baron e cazzo a dirlo prima Rivoluzioniamo il nostro canale Iscrivetevi No ne creiamo uno ad hoc Il gatto sul Clash Games Il mondo simpatico Ma a telecamera Vuodano una ciostra Eccola qui Vai lì sopra Ok Almeno io Gli auguri La gente che mi fa gli auguri Li faccio Troppo su? No è che entro dal tetto Vabbè Che idea brutta Vedi cosa facciamo qua C'è una bellissima porta qua Ciao demo Allora guarda Karin qua si fa così Tu sei scemo Ah niente è rinforzato lì Tu sei scemo L'ha fagato qui Oh merda C'era uno lì C'era uno lì C'era uno lì Ma l'hai lanciata fuori Lei non è dentro Sì ma entra anche dentro Tu qua l'hendo Dove sei? Qua Aspetta aspettate Ah Ahia Che pirla Ah io pensavo che va a fanculo Ma niente non hai visto la trappola Non l'ho preso Ma io sono sceso dal tetto Venga da lì Peccato Ahia Mi ha preso che veniva la stanza però Eh no T'ho preso io? No L'hai preso? Era lì Era lì Spero più quello Siete lontani da questo muretto Ho rotto il coso per le granate io Ma com'è possibile? Ah vedo che non hai fatto un passo Dietro alla macchetta delle bibite di mo Ah cos'è? Ah ma questo rumetto si può rompere Vai via gatto Sì E' tutta una Ah c'è il cross o c'hai? Ma allora Cioè tu ne avevi visto uno fuori Io sono il fuse e tu hai sparato la freccia e l'hai fatto scappare gatto Questo è stato il piano? Ok l'ho ucciso Che cazzo? Eh gatto tu ne hai visto uno dietro il muretto E gli hai sparato la freccia di fuoco? Porca troia Perché si è guardato gatto? Non ero entrato E' a sinistra E comunque l'ho preso e non l'ha perso vita Non è possibile questa cosa Cazzo è a terra No Vabbè Non c'ha mai più moro Io spargo il sangue nella killcam non gli ho sparato Va bene Gatto Vabbè te lo spiego dopo Ho capito capito Hai fatto un'azione di merda Sì 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 Non avevo visto che eri dietro di me Pensavo di essere corso da solo Merda Io faccio il giro dall'altra parte Nessuno di noi mi sa moro Di noi No noi siamo No noi siamo due vicini due E infatti quello che ha rotto lì moro non è Eh io farei il giro dall'altra parte Cazzo cos'è No sono stato io per vedere Non ho fatto neanche un hit marker però No moro La caribra mi sa eh È lì è lì è lì è lì È sopra È robic era lì Ne ho ucciso uno È quella che stava Ah già è la terra certo È lì Hai visto moro Manca uno Aspetta moro Mamma mia l'ho sentito tutto arrivare Eh però tira lassù anche l'altro o l'altro No è uno contro uno Puttana che esplosione Ok ok c'è un coso qui Karim C'è un laser L'ho visto l'ho visto Volete pure legno lì comunque No c'era un laserone c'era Sì c'è un laserone Guarda lì Guarda l'altro E niente Eh T'attento t'attento Sì esci dai Dai Ti diventa più anziano No che brutto Puttana No l'ho fatto l'ho fatto Non c'è la bomba però quindi devi però forza ucciderla Oh puttana Dove la telecamera? Oh puttana Eh buttati Mancano dieci secondi Dov'è? Eh addietro C'è la bomba E' finita Eh l'ho vista l'ho vista l'ho vista Speravo che morissimo tutti nell'esplosione Oh puttana Ah bastardo Eh già per me Scoppiato tutto Scoppiato Ha visto Speravo la bomba Parca puttana Peccato Che ora è? Ma sì Dai No 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 dai Scusi Maratona Eh vabbè Mentana Va bene E niente Ragazzi Vertiendo Buon Natale Grazie mille per essere passati Passate un buon Natale con la vostra famiglia Noi ci rivediamo poi il 27 Eh magari non so Magari facciamo anche le live di sabato Visto che poi ci fermiamo per un po' Eh grazie mille Ma qui vedo offline Cosa succede Grazie mille Passate un buon Natale Grazie per tutte le subscribe Le Eh Le donazioni Eccetera eccetera Eh grazie per essere rimasti così in tantini E E niente Buon Natale a tutti quanti Io mi tolgo sta roba che mi sta facendo venire Venire veramente l'ebola Sei stato bravo a registrare fino ad ora E E basta Auguri Tanti auguri anche dai termosifoni dal gatto Cosa ne sai Auguri Io non so se ve lo fare Termosifoni dal gatto Moro ha detto cosa ne sai L'unico che ha fatto auguri è Manu Che non c'è Che non c'è Non me ne ha detto Grazie mille Che non c'è Ciao ciao Buon Natale Ci vediamo il 27 Ci vediamo lì Sono Fiteo